Tietra a Verona, al primo anno è stato un quinquennio in cui ci siamo voluti nelle proposte partendo da proposte magari più facili e poi impegnando il nostro pubblico invece in spettacoli, in proposte anche più attuali o più eclettiche ogni anno presentiamo per esempio la nostra fotografica e mi sembra molto in linea con quello che presentiamo ci piace pensare che la fiera sempre più in un anno poi come questo in cui a Verona è diventata in effetti una manifestazione di Verona Fiere si esprimata all'esterno in città e quindi ecco la collaborazione di un teatro stabile, ecco quest'anno la collaborazione con l'università con l'Accademia delle Belle Arti, con il comune in tutte le sue serie museali e ci piace pensare che il pubblico che verrà a Verona dal 9 al 13 ottobre possa respirare anche in città l'aria che poi dovremmo far respirare in fiera insomma si parla di contemporaneo. Ci piace poi, c'è qui Carlo Valori, ci piacerà interessare anche il nostro pubblico di collezionisti alcuni più storicizzati, altri più contemporanei in questo spettacolo che si presenta come un po' di sacratorio in cui l'arte non si prende necessariamente troppo di segno e qui è una, credo sarà, me lo dicono molte persone che frequentano la fiera e che hanno già visto il spettacolo in giro per l'Italia una serata divertente e interessante per il nostro pubblico e ci piace pensare che tutti gli amici del Teatro Stamini di Verona possano avere anche una, abbiamo creato una convenzione apposita per cui tutti coloro che sono amici del teatro potranno usufruire di uno prezzo speciale per cui potranno venire in fiera al costo di 3 euro anziché 15 ed è una facilitazione a cui teniamo molto per cui un buon carico a noi e a tutti